Dove sta andando l'economia mondiale? Che succede con la guerra commerciale tra Trump e Cina? L'Italia riuscirà a cambiare le regole in Europa o sarà vittima di una procedura di frazione autoindotto? Quali sono le possibilità che la Federal Reserve abbasserà di nuovo i tassi interesse oppure che Draghi fa un'altra operazione? Quali sono i rapporti e anche i limiti delle banche centrali in un mondo di rilentamento economico? Tutto questo discuteremo giovedì 27 giugno la mattina al Financial Forum del convegno delle fonti TV a Palazzo Mezzanotte a Milano. Ci vediamo lì. Grazie a tutti.